Ci troviamo questa mattina all'Istituto Giulio Rodinò di Ercolano per parlare con il Preside, con il dirigente scolastico Velio Scarane e fare il punto della situazione sull'adeguamento delle misure alla luce della normativa Covid. Mancano ancora i banchi, mancano ancora insegnanti, l'Istituto si è organizzato con delle turnazioni, la dirigenza è riuscita comunque a superire le mancanze, vediamo in che modo. Sicuramente i problemi sono tantissimi e questo nessuno se lo nasconde, ma credo che il primo problema più grosso sia stato quello, al di là dei banchi che non sono ancora arrivati, ma abbiamo risolto con i banchi Biposto disponendo i ragazzi in modo diverso. Abbiamo risolto per quanto riguarda le sanificazioni, le pulizie eccetera, ma il vero problema rimangono ancora i docenti che mancano che noi tra poco andremo ovviamente a nominare, però fino ad ora non abbiamo avuto la possibilità di far partire a regime tutta la nostra organizzazione in quanto effettivamente se mancano docenti è un po' difficile poter cominciare. Quindi come si è organizzata la didattica in queste prime settimane? In queste prime settimane l'abbiamo organizzata in presenza, lasciando residuale la didattica a distanza in quei casi in cui ci auguriamo che non capiti mai, si dovesse verificare qualche caso nella scuola o nelle scuole di altri fratelli e sorelle degli alunni che dovranno necessariamente rimanere a casa e in quel caso lavorare a distanza. Io credo che la cosa fondamentale sia, e qui è un appello che devo lanciare per forza, ad una coesione generale. Il problema è proprio quello dell'esterno. Non vorremmo che tutto il nostro lavoro di messa in sicurezza fosse poi all'improvviso buttato all'aria perché dall'esterno ci sono delle intrusioni. E questa è una cosa che dobbiamo assolutamente evitare. Abbiamo cercato anche noi di distanziare gli ingressi e le uscite, però nonostante questo, io capisco anche la preoccupazione dei genitori, per l'amor di Dio, però dovremmo anche cercare di capire che al di là di quello che può essere la preoccupazione personale, esiste un'istituzione dove i ragazzi stanno tranquilli, dove non hanno problemi, per cui credo che tutti quanti dovremmo a un certo punto fare a mente locale su questa situazione e dire, vabbè, cerco di dare una mano anch'io. Questa soprattutto è la cosa che ci serve di più in questo momento. La giuro di no in questo momento sta vedendo la ristrutturazione dei bagni, una richiesta che era stata effettuata da febbraio, ma solo adesso insomma viene espletata. Come si è organizzata la struttura con quest'altra difficoltà? Per fortuna siamo quasi alla fine, quindi diciamo che a regime dovremmo andare tra qualche settimana. Il vero problema è l'assemblamento nei servizi igienici, perché noi più o meno abbiamo un numero di servizi igienici abbastanza congruo, però comunque dovremmo fare in modo che i bambini non vadano tutti quanti insieme, quindi sarà necessario smistarli su più ore e se è necessario fare anche delle turnazioni. Un appello alle istituzioni e anche insomma ai genitori, alle famiglie? Abbiamo bisogno soprattutto di certezze. Se capita qualche caso, la gestione, noi dobbiamo essere aiutati. L'ASL dovrebbe esserci un po' più vicine, i medici dovrebbero esserci un po' più vicini, fare in modo che si attivi un circuito che sia ottimale, per cui se capita qualcosa sappiamo già tutti quanti come fare e non lasciare un po' solo la scuola di fronte a queste responsabilità. Professore, quali sono le difficoltà maggiori che lei ha incontrato durante questo periodo, nell'approccio con i ragazzi? Beh, le difficoltà che si stanno incontrando in questo periodo, che si sono incontrate anche l'anno scorso, sono notevoli, anche perché nel momento in cui abbiamo a che fare con dei bambini particolari, chiaramente tutte queste limitazioni che sono state messe in atto, doverose, tra l'altro, vanno a ostacolare un po' quello che è il processo proprio di lavoro tra il docente di sostegno e il bambino. Il docente di sostegno necessita proprio di un rapporto e di una vicinanza nei confronti del bambino. La situazione al momento, come è organizzato il lavoro in classe e qual è il rapporto nuovo che adesso si crea tra docente e alunno. In classe abbiamo disposto i ragazzini in una posizione tale che tra i due bambini seduti al banco ci sia una certa distanza. Chiaramente anche questo comporta delle difficoltà perché i bambini non sono abituati a stare lontano. Parliamo di bambini di scuola elementare. È pensabile tornare ad una didattica a distanza con il sostegno? Con una didattica a distanza precipita completamente quello che è il significato del docente di sostegno. Io mi auguro che non ci siano lockdown. Credo che ci siano sicuramente delle restrizioni e sicuramente i bambini che hanno bisogno dell'insegnante di sostegno devono essere visti e devono avere una corsia preferenziale.